Dovrate a venire cosa mangiavano, che erano 25, 1, 2, 3, 25. Signore, quanto è bello questo qua, a Curia. Sono tutti belli. Vabbè, lascialo, lascialo la poverina, lo spaventare, lo spaventare, poverino, guarda che bello questo, guarda che bello questo, guarda che bello questo, guarda che bello, guarda come si stanno le coccole, piccolino, vieni amore, vieni, no, no, non toccare, non toccare. All'11 io penso prima il pranto all'ora e poi dopo faccio il pranto a peccata, tanto più per lui perché io... Viste, grazie? Si accomodi, mi venga tutto, tanto poverire. Ecco, guarda, ma questa volta è curiosa. Hanno mangiato 22 gatti, hanno fatto 22 passi. Vengono addirittura, vengono alla mattina signora, alla mattina, alle 11. si stanno che io gli faccio il pranto, mezzo chilo di pasta al giorno li faccio. Mezzo chilo di pasta al giorno? Beh, sono 20, guarda quante. E poi ti metto due scatolette, due scatolette. E lo so perché lo dico... Oh mamma, ma è un gatto tutto malato, la dì. Grazie. 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 Grazie.